più dei tramonti più del volo di un uccello la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita quando si rimette in piedi dopo la catastrofe dopo la caduta che uno dice è finita no non è mai finita per una donna una donna si rialza sempre anche quando non ci crede anche se non vuole non parlo solo dei dolori immensi di quelle ferite da mina anti uomo che ti fa la morte o la malattia parlo di te che questo periodo non finisce più che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile che ogni mattina è un esame peggio che a scuola te implacabile arbitro di te stessa che da come il tuo capo ti guarderà deciderai se sei all'altezza o se ti devi condannare così ogni giorno e questo noviziato non finisce mai e sei tu che lo fai durare oppure parlo di te che hai paura anche solo di dormirci con un uomo che sei terrorizzata che una storia ti tolga l'aria che non flirti con nessuno perché il terrore che qualcuno si infiltri nella tua vita peggio se ci rimani presa in mezzo poi tu soffri come un cane sei stanca c'è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare che ti vuole cambiare o che devi cambiare tu per tenertelo stretto così ti stai coltivando la solitudine dentro casa eppure te la racconti te lo dici anche quando parli con le altre io sto bene così sto bene così sto meglio così e il cielo si abbassa di un altro palmo oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere ci hai abitato natali e pasqua in quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima ed è passato tanto tempo e ne hai buttata talmente tanta di anima che un giorno comincia a cercarti dentro lo specchio perché non sai più chi sei diventata comunque sia andata ora sei qui e so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento dovunque fossi ci stavi stretta nella tua storia nel tuo lavoro nella tua solitudine ed è stata crisi e hai pianto dio quanto piangete avete una sorgente d'acqua nello stomaco hai pianto mentre camminavi in una strada affollata dalla fermata della metro sul motorino così improvvisamente non potevi trattenerlo e quella notte che hai preso la macchina e guidato per ore perché l'aria buia ti asciugasse le guance e poi hai scavato hai parlato quanto parlate ragazze lacrime e parole per capire per tirare fuori una radice lunga sei metri che dia un senso al tuo dolore perché faccio così com'è che ripeto sempre lo stesso schema sono forse pazza se lo sono chiesto tutte e allora vai giù con la ruspa dentro alla tua storia a due a quattro mani e saltano fuori migliaia di tasselli un puzzle inestricabile ecco è qui che inizia tutto non lo sapevi è da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così scomposta in mille coriandoli che ricomincerai perché una donna ricomincia comunque ha dentro un istinto che la trascinerà sempre avanti servirà una strategia dovrà inventarti una nuova forma per la tua nuova te perché ti è toccato di conoscerti di nuovo di presentarti a te stessa non puoi più essere quella di prima prima della ruspa non ti entusiasma ti avvincerà lentamente innamorarsi di nuovo di se stessi o farlo per la prima volta è come un diesel parte piano bisogna insistere ma quando va va in corsa è un'avventura ricostruire se stesse la più grande non importa da dove cominci se dalla casa dal colore delle tende o dal taglio di capelli vi ho sempre adorato donne in rinascita per questo meraviglioso modo di gridare al mondo sono nuova con una gonna a fiori o con un fresco ricciolo biondo perché tutti devono capire e vedere attenti il cantiere è aperto stiamo lavorando anche per voi ma soprattutto per noi stesse più delle albi più del sole una donna in rinascita è la più grande meraviglia per chi la incontra e per se stessa è la primavera a novembre quando meno te lo aspetti